Nome? Luca. Andrea. Soprannome? Lumaca. Non ce l'ho. Andy Design. Età? 47. 5 in meno. Prima volta che hai guidato un automodello? Da bimbo, 12 anni. 94. Bionda o mora? Bionda. Mora, ovviamente. Peso alla nascita? 4,7. 3,5. Ti depili? Sì. No. Peso di un Formula RC? 1,050. Anche meno, anche 9,80. Tuo peso e forma? 85 kg. Idem. Il tuo gioco preferito? PlayStation. Non posso dichiararlo, sono felicemente fidanzato da 13 anni. Hai fatto il servizio militare? Sì. Idem. Sei mai stato superato da lui? Sì, tante volte. Sì. Il tuo proverbio preferito? Vivi e lascia vivere. Uguale. Ci fai un fischio? Il tuo risultato di gara più bello? Primo. Ultimo. Il tuo risultato di gara più brutto? Ultimo. Primo. tre aggettivi per definire quello che hai a fianco. Ammazza, non c'è tre aggettivi per me. Io l'ho detto. Dai, dai, dai. Simpatico. Tre? Mancano due. Bravo, simpatico. Bravo, no. Onesto. Punto debole? Tanti. Uno. Tanti. Irascibilità. La marca del tuo automodello? Io como. Una qualunque. La parte di te che meno ti piace? Fisicamente? Genio. La parte di te che meno ti piace? Anzi, caratteriale. Caratteriale? Forse anche io un po' irrascibile. Il carattere. La parte meno che ti piace? Il carattere. La parte che più ti piace? Il carattere. Una bellezza. Allora. Uno che stimi? E poi c'è l'attacco. Una persona del modellismo che stimi? Andrea. Luca Magnocavallo. Un coglione? Lui lo sa. Prima o poi mi guarderà su questo video. La marca del tuo motore? Fenix. Fenix. Canzone preferita? U2-1. Sempre U2. Guido guidou tio. Girati a sinistra. Cosa pensi di quello che hai a fianco? Gran bella persona. Devo dire pure io. Uguale. Fai un complimento a quello che hai a sinistra? Bravissimo. Veloce. Costante. Un po' difficile da superare però bravissimo. Altrettanto bravo. Poi come ho sempre detto chi vince ha sempre ragione. Cosa pensi di Masami Irosaka? Il campione. Uno dei più grandi piloti RC di tutti i tempi. La donna più bella del mondo? Jennifer Einiston. Non so il nome però è la fidanzata di Fernando Alonso. Andate su internet e guardate. Riti scaramantici prima di partire per una finale. Tre grandi sospiri. Una bella grattata alle parti. Quando il tuo rivale esce di pista cosa pensi? Che peccato. Che gioia. Un aggettivo per definire la pista RM Cassino. Fantastica. Eccezionale. Numero uno. Come si fa a fare una polla e giro veloce? Con tanta fortuna. Un po' di molta fortuna. Come si fa a vincere un italiano? Più fortuna del giro veloce. Per più giri serve. La stessa fortuna per più giri. Ok abbiamo finito. Un saluto. Ciao. Ciao a tutti. Ciao Luca. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.